Musica Bello a tutti ragazzi oggi siamo qui in questo nuovo video di Shogun 2 Total War Fall of the Samurai su foresta del Kansai su una partita giocata contro un altro Foz dove appunto vi mostrerò questa battaglia che sarà un bel casino anche perché come vedrete dall'inizio non mi trovo con un giocatore abbastanza rincoglionito allora il mio esercito, ecco avete già capito 9, tutti vermiglio e solo Royal Marines poi qui avevo una cavallera con revolver e 3 chicogliari mentre il mio nemico è un'unità con la gittata quindi Marines americani con 150 Tosa, Tosa Fucili ereditosa Royal Marines con 125 Caio Moschetti a miccia con cannoni Armstrong che non saranno molto utili Caio Moschetti a miccia che appunto sono unità scrausissime 100 di gittata possono dare un po' di supporto ma giusto giusto di cavalleria invece era messo più o meno come stavo io sì più o meno anche perché ho un'unità in più però userò male quindi all'inizio dico vabbè mi posizionerò in questa metterò in questa zona e attenderò che lui poi mi attacca invece cioè diciamo che pensavo che mi attaccava lui solamente dopo un po' invece è stata una battaglia velocissima dove lui ecco adesso prova a caricarmi io subito decido di attaccare ovviamente perché ecco vedete quando vedo che inizia a girare il generale subito insomma io inizio a caricare anche se lui fa bei danni perché è anche un generale di supporto anche se si spara sui suoi uomini però va bene e qui muovo anche la mia cavalleria con revolvera all'attacco proprio così qui aveva delle unità aveva una o due unità imboscate se non erro e infatti lui ha un vantaggio perché appunto ha delle unità con più potenza di fuoco delle mie con meno morale però con più gittata e in più ero imboscato quindi insomma tanti colpi non andavano a segno i danni comunque gli vengono fatti anche molti qui la situazione si porta a mio favore come vedete inizia ad andare in focale chi con iari però anche a me va in focana chi con iari però lui sbaglia perché inizia a sparare con questi cacchi con moschetto che demoralizzano sì le mie unità che però erano in maggioranza ma anche le sue che erano in minoranza quindi mando subito il mio generale io qui per dare morale ovviamente li faccio anche sparare e insomma alla fine riuscirò qui a cavarmela con qualche unità così tanto per qui lo scontro inizia anche se i royal marines voglio dire sono rinomati perché sono unità d'elite quindi questi fucili andano all'inferno i suoi royal marines che avevano anche più potenza di fuoco della mia si beccano la prima scarica di colpi in più erano demoralizzati dal combattimento che c'era dalla cavalleria che ecco qui vinco infatti distruggo questi gai con moschetto benissimo volevo prendere il generale ma poi demoralizzo i royal marines prendendoli da dietro con le chico iari in più quest'unità la porto via e la uso per attaccare quest'unità e vedete che il suo esercito inizia a sgredolarsi ecco qui inizia ad andare tutti in fuga un esercito da alto morale o morale che però viene di frantumato e quitta vittoria e niente io vi invito a lasciare un mi piace a commentare se il video vi è piaciuto e adesso vi mostro un attimo le come si chiamano la viene il nome e le statistiche e cioè almeno vi faccio vedere un po' mi sembra che lui era in minoranza numerica se non sbaglio infatti l'unità l'ha giocata male senza allargare i ranghi così vabbè si era in minoranza era 270 uomini in meno quindi anche un po' giustificato però l'ha giocata male perché lui se rimaneva nel punto dove era e si boscava un po' meglio con le coitosa faceva bei danni alle mie unità comunque raga io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao